Scusa cara, se tu metti la tua Susina su OnlyFans a 9,90 e io a 4,99 della minchia Così compri, questo è marketing No no, hai capito? C'hai 4,99 della minchia e io sono a cena con degli amici e magari al tavolo a fianco c'è quello che si è appena pasticciato guardando la Susina della mia ragazza e io devo stare tranquillo, porca di quella puttana No no, beh, anche se è brutto Che brutto, ma è così Sì hai ragione, non ho mai visto questa scena Maurizio Romano, il gentleman seduttore, colui che aiuta gli uomini a trovare la donna dei loro sogni Non avrai bisogno di trovare le parole giuste, sarà lei a venire da te Ciao ragazzi e benvenuti al nostro podcast, quello che le donne non dicono Oggi parleremo di un argomento al quale sono molto legato perché il mio lavoro si occupa proprio di far ritrovare le palle agli uomini Perché anche se mi vedete così vestito da damerino, io sono un portatore sano di palle E ve lo dico con questa voce impostata in modo che possa arrivare ancora meglio il concetto Allora il problema ragazzi è sempre il solito Questa propaganda, woke, pari opportunità, diritti, LGBT, mia nonna in cariola, fluidità di genere, di non genere, fai il femminismo fanatico Argomenti nei confronti dei quali io sono molto tollerante, vero? Assolutamente Tantissimo Praticamente sono l'antitesi di ognuno di questi argomenti Comunque, tutto nasce da un avvenimento Come sapete io, lo dico spesso così almeno comprate il corso Ma non perché io abbia, perché così almeno comprano il corso Io insegno anche a fare sesso Il problema cos'è? Che l'altro giorno ero in coaching con un ragazzo Molto carino, gentile, super educato Mi diceva Mario ma queste cose posso farle? Posso chiederle? Posso, cioè ma noi le devo chiedere il permesso per fare ciò? Ora, non immaginate cose esagerate, no? Però cose assolutamente normali Quando la donna arriva e vede l'uomo che è lì e chiede il permesso Ti posso, posso fare? Mi si asciuga No, parlava della lavatrice Parlava della lavatrice quando tiri fuori i panni e si asciugano No, io... Io mi asso, vado via Io anche sono ando via Ciao a tutti Stanno andando via Sono sempre visto, cavolo Guarda, mi stanno chiamando Ragazzi, il problema è che però questo è, questo atteggiamento Non è perché lui è stronzo È perché... Sto insicuro Stai immaginando la scena, non riesco a non riesco Esatto Scusa, posso? 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 No, lui però è molto giovane E mi ha chiesto, Mari ma non devo chiedere il permesso di certe cose? Non devo... Se le consenze no No, no, ovvio Cioè, se non è ubriaca Partiamo sempre da uno spazio di sanità mentale, di uomo Di una situazione normale Anormale In cui c'è ovvio, ragazzi Certo Se vedete una che vi piace per strada E andate a toccarle il culo Lì dovete chiedere il permesso Sì Però se siete con la vostra fidanzata Con la quale state da un po' E vi conoscete molto bene Siete in quelle situazioni lì Il permesso Toglie un po' di libido Toglie un po' di pato E io gli ho detto Chico Il tuo problema Perché lui Vabbè, in quel corso ci sono cose un po' strong Però Cioè lui Ridolo No Però A parte le cose strong Lui mi stava chiedendo cose normalissime E questa roba mi ha fatto pensare E gli ho detto Tu sei Cioè tu credi queste cose Perché hai il cervello rincoglionito totalmente Dalla propaganda del femminismo fanatico Dalla propaganda woke Che ti dicono La donna deve essere consenziente Deve essere questo Deve essere quell'altro Deve essere quell'altro ancora E quindi Mi sono detto Ma questi ragazzi giovani Non hanno più l'idea Di cosa voglia dire essere maschio Essere rude in maniera romantica Si sono confusi ormai Esatto E poi imitano Rocco Rocco Esatto No ormai imitano Hai capito Tony F Non so chi è Tony F E si ora si Cioè non lo so Bobo Comunque questi video Che sono Ovviamente espliciti in quel modo Noi videocorni Ah tu dici che loro vogliono fare Come quando vedono quei video Si non hanno una via di mezzo O chiedono il permesso O fanno così E anche quando fate così ragazzi Dovete saperlo fare Per questo c'è il nostro corso Lovemaker No vabbè Tanto non c'è bisogno di chiedere Perché se lei non vuole Te ne accorgi Esatto E poi ti dice no E lei che ti dice no O ti stoppa Certo Però voi dovete sempre provarci Cioè nel senso Poi sarà lei a dire al massimo Esatto No guarda questa cosa non mi piace Però se tu chiedi Già rompi la magia E mai con forza L'uomo intraprendente Esatto Sempre Dominante Cioè quindi il problema qual è ragazzi È che dovete essere dominanti e decisi Ma mai forti Cioè anche forti Però non dovete prenderla con forza Per Contro la sua volontà Ovviamente no Dovete prenderla con forza Beh ogni tanto anche così Anche però Per giocare Esatto Però è così Cioè nel senso Dovete cominciare a tirare fuori le palle Tutto questo perché Perché ragazzi oggi C'è una demascolonizzazione devastante Che è preoccupante Cioè l'uomo non è più in grado Di avere la forza Perché ha paura Che appena dice qualcosa Ah questa mi denuncia Ah questa Pensa che io sia un maschilista Cioè proprio Io quando faccio dei discorsi Ad esempio Qualche giorno fa Ho postato un video Un po' duro No Nel quale andavo a Dire che Cioè le donne che Vogliono fare Le femministe fanatiche Che vogliono dividere il conto Al primo appuntamento Hanno rotto i coglioni Cioè fatti Trattare da regina Fatti trattare da donna No Ma a me piace così infatti Come a tutte le donne sane di mente Però il problema è che Ci sono un mare di donne Folli Che Dicono queste cose Gli uomini Soprattutto le ragazze giovani sono E questi ragazzi Non sanno più Come comportarsi Perché se aprono la portiera E questa Ah io me la so aprire da sola Offrono Cercano di offrire la cena La pizza E io me la posso fare da sola Però c'è anche da dire una cosa Che spesso ti offrono la cena Perché sperano che in cambio Ah perché non è così? A me mi hanno offerto Mi hanno offerto una cena Nell'istorante Perissimo Perissimo Di Milano Io ovviamente No ma lui non piaceva Io ho detto Ma scusa Ora lui ti dice Perché ci sei andata a cena? Esatto Perché io sono andata a cena Per conoscerlo Non con lo scopo di Ma anche io A parte quello No ok Però il discorso è Io faccio sempre un discorso Ragazzi Ho paura No 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 Ma è oggettivo Io so già cosa ti deve dire Io detesto Chi cerca di comprare una donna Con una cena È uno sfigato Se è un coglione Però detesta anche la donna Che va a cena con uno Che non gli piace Esatto Perché non ha senso Perché come io Ti dico che devi pagare la cena Alla donna Cioè ragazzi Ma parliamoci chiaro Un uomo che va a cena Con una donna Non ci va Perché vuole sapere Che cosa pensa Quella donna Ancora Maury Devo lavorare su questo punto Ma sai perché Tanto ci cado Sai perché noi ci andiamo Perché diciamo Ma non è importante L'aspetto fisico Per forza Bravissima Magari interessante In un altro modo Può essere una serata piacevole Invece non è così No non è questo Dell'aspetto fisico A voi non piace Cioè poi Non è bello ciò che è bello È bello ciò che piace Voi donne Infatti a volte andate Con dei cessi a pedali Che non so come cazzo fate Però Anche voi uomini Anche noi Io no Devo dirlo Io non ce la faccio proprio Vorrei Anche io a volte Mi stupisco Però vabbè No no è vero È vero Però a parte tutto Il discorso qual è Ascuno No 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 Il discorso qual è È che ci sono delle Delle situazioni In cui puoi non saperlo Sì perché tu dici Prima in patto capisci Se ti può interessare o no No il discorso è questo Lei parlava Secondo me della prima cena Sì della prima cena Se io vado a cena con un uomo È per conoscerlo Non per andarci a letto Perché io Prima di andarci a letto Io ho bisogno di conoscerlo un po' Poi magari C'è intesa C'è qualcosa che può succedere Per carità Anche se mi piace Sono attratta Ma non esiste Perché io Voglio guardare solo il tuo aspetto fisico Io voglio anche Conoscerti come persona Vedere che valori hai Se è una persona che può essere affine a me No però attenzione Lei ha detto Io non ci sono andata Perché non mi piaceva Cioè lei già sapeva Lei ha detto No io ci sono uscita perché volevo conoscerlo Conoscerlo Perché Poi se mi porta una cena Di 800 euro Portami anche Babaro Se non vuoi spendere Non vengo io Però Può essere che Può essere che esteticamente ti piaccia una persona Quindi tu lo vedi Dici Bel ragazzo Mi ha scritto Vabbè vado a un caffè Poi può essere che ti scade Un caffè O anche può essere un aperitivo Anche una cena Non la cena Dipende lui che cosa mi propone subito Io cosa ne sapevo Dipende lui cosa ti propone subito Perché se io lo trovo carino e interessante E mi propone subito la cena Io magari per curiosità di conoscerlo vado Poi magari a quella cena Mi rendo conto Dico mamma mia Questo qui proprio Non ce la fa No E quindi La cena non può finire con altro Cioè è impossibile Ma anche se mi piace Perché per me non esiste La prima cena Andiamo a letto Per me Non è mai successo A me non è successo nella mia vita Non penso che succederà mai Perché io ragiono così Se io non so cosa hai dentro Io non riesco neanche proprio Sì ma l'uomo pensa Un bacio magari Un bacio Se tu vai a cena Se tu vai a cena Sei interessata Sì a conoscerlo E questo devono capire Le uomini Invece ci sono alcuni che Poi pretendono altro Cioè sperano proprio di Magari in macchina Ma come io ti ho portato a cena Ti mettono le mani sulle gambe Immediatamente E infatti O magari sai provano Già subito un approccio fisico La prima sera C'è qualcuno Ma ce la fanno A me non mi hanno mai più vista Ma no Perché comunque A me non mi hanno mai più vista Anche se avevo interesse La prima sera Tu ti approcci Mettendomi proprio già Le mani sulle gambe O fai il polipo La prima sera Quei pochi A me non mi hanno mai più vista Ma infatti è giusto Esatto Ecco ma ditemi un po' Ma questa mascolinizzazione Voi la vedete La percepite Vi Sono spaventati Sì soprattutto I ragazzi giovani di oggi Non sanno approcciare Assolutamente E alcuni addirittura Quei pochi belli Io parlo Che ne so L'età 20-25 Viaggiano su un piedistallo Perché sono loro Cercati dalle donne Perché sono le ragazzine Non sono più donne Quindi fanno la preda Sono loro cacciatrici Quindi l'uomo Si sono invertiti i ruoli Si sono invertiti i ruoli L'uomo sta a mo' di piedistallo E ha queste ragazze e ragazzine Che vanno a cercarlo E lui sta lì Ah vediamo È vero Sui più giovani È vero Se noi notiamo Anche la tv incide Uomini e donne Quando mettono l'uomo sul trono Io non andrei mai A corteggiare Come si fa? Non esiste Io corteggiare un uomo E fare la gara con le altre Ma figurati Mi rifiuto categoricamente No Ma no Non è nella nostra indole Corteggiare Infatti Posso farti capire Ma non corteggiarti Posso farti capire Ma non sarei in grado Non sappiamo come farlo Cioè voi che vengono in trasmissione Ti porto la rosa rossa Che imbarazzo Andate voi ragazzi Io mi vergogno Di queste ragazze Che vanno lì a fare Sta porcheria A me E lì ti chiamano Per me è il disgusto Però vedi Sono loro Cioè proprio È già la tv I media Che cercano di condizionarti Come anche tutta questa propaganda Eccessiva Sul Quindi li vedete Gay Lesbiche C'è proprio una campagna A favore di questo Però Secondo me Molti valori In genere Si stanno un po' perdendo Perché non esiste Che l'uomo Sta nel trono E ha Le schiavette Sì questo è un esempio Ma c'è nella vita reale I ragazzi giovani Ormai è così I ragazzi giovani È così È vero Sono le ragazze Ma le ragazzine Devi vedere che roba E sono loro che sbagliano Ad esempio Mia figlia Cioè Sembra già una donna C'ha 13 anni Sembra una donna Anche mio nipote È uguale Ma è super Lei vabbè Il mirino del gentleman Quindi Si cari E quindi si comporta bene Però Tendenzialmente Io lo paragono A mia cugina Con cui sono cresciuto Lei a mia cugina A 13 anni 12 anni Giocava con le bambole Mia figlia Fai tiktok E si trucca Sì 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 Ma non è che tua figlia È ormai Il mondo È il mondo Che Io anche a 13 anni Giocavo ancora con le bambole Ma tutti Tutte le Ma io un esempio Cioè Vedo mio figlio Che ha quasi 12 anni Sembra un uomo Tiktok Instagram C'era niente Sono veramente cercati Da tutte le ragazze Cioè il contrario Praticamente ricevono Mille messaggi Da ragazzine Sui social E vengono martellati Così Il problema è che Non saranno mai uomini Questi qui Ma va Figurare Saranno future Checche Sono donne Meno male Che siamo in un'altra epoca Saranno loro Ad aspettare Che la donna Gli paghi la cena Gli faccia i regali Ma guarda C'era Gli porti la rosa Lo vada a prendere a casa Sì 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 Chi è che me l'aveva mandato Pazzesco Un video Una di voi Non mi ricordo Forse ero io Forse tu Che c'era la donna Che proteggeva l'uomo La donna che pagava il conto La donna che apriva la portiera Ma perché E poi finiva con la pacca sul sedere La donna Lei a lui La donna Gli pagava tutto E poi finisce così Eh vai Ma siamo a questo livello Sì siamo a questo livello Soprattutto nella generazione nuova E secondo voi Ma io credo anche In gente più grande C'è tanta gente grande Però meno Nel senso E più Da noi noti più La disarmonia su questo Invece E' proprio la nuova generazione E' la normalità E' così proprio Gli uomini più grandi Perché sono insicuri Magari non si Invece i ragazzini Proprio per loro è così Lei che deve venire da me Sì Ma dove si è visto Ma non esiste No E' questo quello che insegno Però ora non state a vedere Però non è questione Di lei che deve venire da me E' questione che È un po' Particolare Come cosa Però oggi Le donne Anche le donne Si sentono Super sul piedistallo Per questione Dei social Eccetera Non ci sono più le relazioni Esatto Ma hai fatto una tragedia Infatti Poi non è una questione Di piedistallo È una questione di ruoli Cioè se io sono donna È normale che sono preda Cioè Io voglio l'uomo Che viene a cacciarmi Che ovviamente Poi c'è tutto un modo Non è Essere cacciata Nel senso Non che io non ti cago E tu Io ovvio che ti do modo Che tu lo capisci Però aspetta Ti faccio capire Ti do io l'input Aspettate Perché c'è un però C'è un però Perché oggi le donne Non sono più come Le altre donne Di una volta Le donne di oggi Sì Vogliono essere corteggiate E ci sta E sono d'accordo Però mentre una volta La donna Si faceva corteggiare Da uno Oggi la donna Si fa corteggiare Da quindici Che non vuol dire Che la dia a tutti E che si conceda Spoglie Ad ogni pudore Pur di giacere Con tutti questi uomini Però Sicuramente La donna oggi Non ha più Ecco Il problema Io Sono una persona Un po' talebana Su certe cose Io Quando so Che una si sente con altri Per me Anche se Mentre io ti sto conoscendo Mi sento con altri Ma non è che è la normalità Ma a te sembra Una roba Ma si sentono Perché il messaggino Arriva da tutti Voi tutti i giorni Avete almeno Sì ma mica rispondiamo Sì ma quello vuol dire Loro corteggiamo Ma mica rispondiamo Sì ma rispondiamo Io anche ricevo Tanti messaggi Anche per spondire Io non rispondo a nessuno Vabbè ma tu hai un altro discorso Perché hai una relazione Però Cioè ci sono donne Che sono single Che hanno Dieci Quindici Pretendenti Per noi ogni tanto Sì aspetta Aspetta Che stanno E poi una volta escono Con uno Per vedere Io sta roba Cioè per me Se fai sta roba No se io esco Con una persona Ovvio che non Ma come la metti Nella scelta Ma l'uomo fa così Come faccio a scegliere Tra tutti quelli Io ti ricordo L'esempio con lei Lei si sentiva con uno Un giorno Lei tranquilla Mi dice No c'è anche quest'altro E io Ero matrimonio io Ci stavamo sentendo Mai visti Non te lo ricordo No non mi ricordo Mai visti e conosciuti Però ci sentivamo In modo importante Io ho detto Se ti devi sentire con altri Io mi faccio da parte Ti saluto E lei ma subito Ha capito Che ero un talebano Ma ha scritto Ma no ma è giusto Ma dai Ma anche io Mi sento con una persona Che mi devo conoscere Allora se sto entrando In frequentazione Lo posso capire Se comincio a vederti Comincio a avere Un rapporto con te Ma nel mentre Io lo vedo così Nel mentre sto conoscendo È vero Io ho tante opportunità E Come dice lui Nel senso tu dici Io rispondo Anche magari Magari non c'è interesse A volte per noi A volte perché Dici ma sì Ma io dato che ho avuto Delle esperienze Traumatiche Da singolo ovvia Da traumatiche Nelle relazioni A parte Quindi io Sono lui Ho un ventaglio Sono fantastico Adesso vediamo Che scelgo Io scelgo Capito Beh come è giusto che sia Parlo con tante persone Poi se comincio a vedere Che ho più simpatia Verso una Allora sì Ma poi parlare Non vuol dire frequentare E ma loro pensano al contrario Anche io Do ragione Perché se io sono single Sono single Ma sì Se parli non fai niente di male È normale che prima Di scegliere una persona Devo scegliere È normale Però se entriamo in connessione emotiva E tu ti scrivi Cioè ti dici delle cose come Sì però dobbiamo vederci No Per me nel momento in cui ci vediamo Io ti vedo Allora ci vediamo Allora è diverso Io sto parlando dal mio mondo E ti posso garantire Che quando scrivi Con un ragazzo Che segue i miei corsi Te ne accorgi Ed è un'altra roba Mauri posso dirti una cosa Io i social Quando mi scrivi Appunto perché ti scrivono in tanti Però te ne accorgi Quando ti scrivi un altro L'avevo già visto Eh però te ne accorgi Però te ne accorgi Infatti questa cosa qua È una domanda Che mi viene Come fa una donna Che questo te l'ho anche chiesto ai tempi Come fa una donna Ad accorgersi Che c'è dietro Una tecnica Non se ne accorgi Perché siamo bravissime Eh ma dai No no Non te ne accorgi Perché è talmente Perché poi non è più una tecnica Diventi quella persona Capito Brava Brava Oddio sono stata io Però Esatto Brava Perché Noi non insegniamo le frasi Noi insegniamo un atteggiamento E quell'atteggiamento Lo sviluppi nel tempo E poi diventa tuo Lavorando mentalmente Tu devi essere Cioè Se no non potrai mai E essere una persona Ma come qualunque percorso di crescita Se tu fai un corso di formazione Di crescita Non è che fai il corso E basta Come quando studi Se studi a memoria Tu sai quelle parole Per un po' di tempo Però dopo te lo dimentichi Tu non devi imparare Cioè tu devi proprio vivertelo Tu non hai tutti i messaggi I messaggi preimpostati Come quelli che vedo Ah Questo Dai il 59 messaggi Dove Ah proprio i messaggi prescritti No Ci sono persone No noi abbiamo delle strategie Ad esempio Il Magari si magari no Quelle cose lì Cioè Non proprio frasi preimpostate Forse Però sono battute Che crei per Agganciare un discorso all'altro Ma non Cioè Io insegno un atteggiamento Infatti ieri mi è arrivato Un messaggio di un ragazzo Che mi ha fatto una chat E ha detto Ragazzi Che spettacolo Un ragazzo che Era la prima chat L'ha studiato tutto il corso Era un The winner is Io gliel'avrei data Un maestro Io gliel'avrei data Brillante Divertente È così ragazzi E ricordatevi una cosa Un uomo Quando vi scrive Se ha un atteggiamento giusto Voi lo sentite E soprattutto Una cosa che Questo lo dico alle donne Che ci guardano Ricordatevi che Di tutti i 100 200 Milioni Di uomini Che vi scrivono Sono veramente in pochi Quelli che scrivono a voi Per voi Ma va Fanno inoltre 1, 2, 3, 4, 5 Quindi dovete anche vedere Quanto investono Nella Nella conversazione E quanto si sbattono Perché ci sono Ciao come stai Ciao come va Lo scrivono a tutte Ok Quando vedete invece Un messaggio Costruito Che ha più punti Che magari fa la domanda Poi vi fa la battuta Poi vi fa la cosa profonda O si ricorda cosa ti aveva chiesto Qualche giorno prima Esatto Vuol dire che sta scrivendo Veramente con te E se sta scrivendo con te Allora dovete Per valore Come la vedo io Per etica morale Dargiela Ah no scusa Anche anche Però Dovete Sei un mito Dovete Assolutamente Isolarlo Cioè quindi se vi interessa Isolate tutte le altre chat Perché Giusto Se voi date Le vostre energie Anche ad altri uomini Non è Non è bello Anche perché io Se sapessi Che una donna Con cui mi sto scrivendo Scrive anche con altri Io la mollo Istantaneamente Idem per le donne Se noi Vediamo che ti senti Con altre persone Dici ma scusa Se ti interesso Una volta che c'è L'interesse ovviamente Esatto Ovvio Perché se tu finché Rispondi così Giusto per Perché veramente Una volta Gli scrivono in 3000 Ogni tanto Non è un cavolo da fare Dici ma si rispondo Ma non ti interessa Ma lo vedi anche No Invece quando tu Inizia una conversazione Con una persona Che ti scrivi Diverse volte nel giorno Cioè diverse ore nel giorno Il giorno dopo Vuol dire che c'è un interesse Allora è ovvio Che metti da parte Esatto Anche perché Non te ne frega niente Del resto Rispondevi così È giusto Oggi invece C'è questa Secondo me C'è questa cosa Che sia uomini Che donne Vanno un po' Sul mucchio Cioè Tengono tante porte aperte Certo Sì sì È così Tirano un laccio di qua Una provocazione di là Ma io ste robe Non le capisco Cioè io mi sento in colpa Quando Io lo dico sempre Anch'io Mauri Quando apro Quando apro due bustine Cioè quando magari Apro una bustina Del formaggio grattugiato E ce n'ho un'altra Nascosta nel frigo È il mondo attuale comunque E io mi sento in colpa Solo così Cioè sai che bello Quante volte fra amiche Ti ritrovi E dici Madonna Oh mi ha scritto questo Ragazzi Ma ti rendi E lei Ti apre il telefono Anche a me L'altra Anche a me Cioè succedono queste cose A te non è mai successo A me è successo Con uno Che ha detto Che mi ha detto Vabbè ma se tu proprio Non vuoi Visto che la tua amica È carina Vado da lei E certo perché tu no Allora passiamo al prossimo Ho il messaggio No anch'io La tua amica è carina Li scrivo a lei Con le tue foto Soprattutto Delicatissime Mi dicono Vabbè se tu non vuoi Chiedi a lei Ma che cosa stiamo A merciscambio Ma fammi capire Cioè la gente No ma non stanno bene Cioè quindi a te Non ti interessa Ti interessa solo il buco Di qualsiasi dimensione e forma Ragazzi vi dico questa cosa Però a pagamento Lo trovate Esatto Se vi interessa Andate a pagamento Non rompete Se vi interessa solo il buco Perché poi te lo chiedo Prendete e andate a mignotte Perché ci liberate Salute Da questa tragedia No davvero Ma anche perché ragazzi Oggi siamo nell'era del sesso Cioè il sesso è molto più Facile da trovare Che qualunque altra Situazione Andate a trommare in giro Andate senza proprio In un attimo la trovi Ma perché ti costa Una cena La benzina Lo sbatti della macchina Andrà a prendere I messaggi Cioè per quegli altri Che non ti Cioè magari tu non gli rispondi Oppure dici No guarda mi interessa E ti rispondono E se ti pago No sei seria No anche a me Sono arrivati tanti Tanti Cioè io dico Allora perché se mi paghi Allora dico Allora se vuoi pagare Vai a pagamento Aspetta 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 un attimo Ho bisogno di fare un messaggio Un attimo A te che mi stai guardando In questo momento là fuori Ci sono un sacco di uomini Che sono dei morti di figa Supplicanti Adotta un morto di figa Compragli un percorso Gentleman E salvalo La sua vita Sarà migliore Sicuramente Ma davvero Ma davvero Sì 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 Ma se uno mi scrive Dai E poi spara 3000 Cioè gioca Da solo Sì Senza che io ho mai risposto Blocchi 3000 dai Oppure ti regalo Blocchi E io per ridere Ma guarda sto Sì anch'io Sai via con me È normale Fa bene Perché Perché tu lasci la possibilità Un morto di figa Di continuare ad avere un canale Che poi tu non guardi Però solo il fatto che lui Tu legga Per noi è semplicemente un follower No toglilo Ma sai che io ho iniziato a bloccare Tutti gli uomini che mi seguono Io A occhi chiusi Li blocco Noi per il lavoro che facciamo Ti chiedono quanti follower hai Quindi per questo Noi piuttosto Non li caghiamo Però lui dice Se sei in una relazione Non va bene il lavoro Quindi poi lo puoi bloccare È tutta una conseguenza Però Ragazzi È sempre una questione Cioè io vi dico Quello che In cui io credo Però oggi ci sono persone Che fanno gli fans E hanno relazioni Ci sono persone Che fanno le pornoattrici E hanno relazioni Cioè ad esempio Dani Camori Le conosci eh Infatti stavo pensando Alla Zanzara No no ho visto tutto ragazzi Però ci sono tutte queste donne qua Che hanno relazioni C'ha il marito che guarda Mentre fanno cose con altri Allora quelle sono perversioni anche No ma io Io ucciderei Per me sì Però ragazzi Il problema è che oggi Esiste anche questa roba No è sempre esistita questa roba No però Cioè sì Però oggi è molto Nascosta Oggi si è più Nascosta Quello che voglio dire Quello che voglio dire È questo È che oggi esiste anche quella roba E ognuno fa quello che vuole No Va bene tutto Perché ognuno è libero Siamo in un paese libero E ognuno è libero Ma io dico Ma se tu vuoi una relazione Tradizionale Una relazione Da film D'amore Eccetera Quei cavalli bianchi Le carrozze Eccetera Ragazze Io ve la posso girare In tutti i modi Potete dirmela In tutti i modi Ma se voi Fate un lavoro In cui Usate in maniera Assolutamente etica E con grande rispetto Il vostro corpo La vostra immagine Purtroppo Non avrete mai Una persona vicino Sana Punto Perché La parola sana Mi preoccupa No sana Tra virgolci Cioè una persona Cioè una persona O è debole O scrolla Perché non ci sono Non ci sono Altre soluzioni Perché un uomo Forte Non accetta Questa roba E non è Perché Poi io so cosa dite No è insicurezza Perché non hai Questa è una scusa Poi dopo Ma no perché Non è questione Perché oggi Viene passato il concetto Che se un uomo Non accetta Che la propria donna Sia esposta E sessualizzata Da altri uomini Allora è insicuro No non sono insicuro Sono un uomo Che vive Io parlo sempre Di uomini Che vivono per te Un uomo che vive per te E ti mette come priorità Vuole l'esclusività E vuole che La tua susina Non sia messa A 9 euro e 90 Sul cazzo Di Only fans Ma infatti sei Porca la vostra Puttana Ma è giusto Così infatti se Io ti do una testata Cioè se mi dici Faccio Only fans E faccio Ma anche perché Se tu Scusa cara Se tu metti la tua susina Su Only fans A 9 e 90 E io A 9 e 90 4 e 99 Della minchia Così compri Questo è marketing No no Cioè capito Cioè 4 e 99 Della minchia E io sono a cena Con degli amici Magari al tavolo A fianco C'è quello Che si è appena Pasticciato Guardando la susina Della mia ragazza E io devo stare Tranquillo Guarda di quella Puttana No no Beh Anche io Che brutto Ma è così Si hai ragione Non ho mai vista Questa scena Ma infatti Questo lavoro Lo si può fare Quando si è da sole E quando si è da sole Non sto paragonando Il tuo lavoro Il suo lavoro A Only fans No no Anche perché No Sono due cose Un po' diverse Un po' diverse Un po' diverse Però anche noi Facciamo magari foto Di nudo artistico Quindi è un'altra roba E so che può dare fastidio Perché comunque uno Guardando le nostre foto Ti scrivono in 2000 E però noi Tutta una conseguenza E fai cosa fanno Poi Sì e te lo dicono anche Cosa fanno Delicatissimo E quindi giustamente Il tuo uomo dà fastidio Perché dà fastidio Davvero Davvero Ma io L'ho sempre detto Certo ma uno può anche cambiare La tipologia di lavoro Io ho sempre detto questo Se incontri la persona giusta Però non puoi fare un cambiamento Dopo pochi mesi Che conosci la persona Perché tu Una persona Puoi anche Ok ti innamori Però poi se il rapporto funziona Lo vedi dopo un po' di mesi Quindi non puoi cambiare vita Tu mai hai conosciuto così Ti mi tieni così Ah è Inizialmente sì Perché comunque tu Se mi ami veramente Mi accetti per quello che sono Io invece lo dico subito Poi sono io Che faccio un cambiamento E dico ok Cambio Cambio Il mio lavoro Per amore Perché so che a te Da fastidio Ma io devo avere una sicurezza Una certezza dietro Della tua etica Che No quali soldi No no Di come sei tu Cioè mi devi dare Delle certezze La certezza credo Economica Credo che avessero Cioè Allora quello Eh uno deve cambiare lavoro Quindi allora Lì o mi aiuti tu O se no io mi trovo Qualcos'altro Ma comunque deve essere Un lavoro che mi piace Perché poi non devo Diventare una donna Quella classica donna frustrata Che magari va a fare le pulizie Perché non ha altro da fare E poi arriva a casa E guadagni niente Arriva a casa Stanca Incavolata Allora io I libri dico ok Rimango singola vita Piuttosto che Accontentarmi di un lavoro Che non mi piace Perché l'uomo che ho vicino Non mi accetta Per quello che sono No Per me no Io le dico subito All'inizio Quindi lì ci si viene incontro A vicenda Ed è il tempo che lo fa Perché se tu ti metti con me Dopo un mese Mi dici Ah devi assolutamente Cambiare lavoro E me lo imponi Io parto già No Allora ognuno per la sua strada Perché uno non deve essere Una cosa imposta Due poi ti viene paura È una decisione mia Che prendo io Perché so che a te Fa stare male Ma io devo sapere Che tu sei una persona Che mi ama veramente Che mi dà delle certezze Anche emotive Quindi che tu sei un uomo Con dei valori Che mi ami veramente Che non sei un traditore Perché poi ci sono quelli Che ti chiudono in casa E loro vanno in giro A farla qualunque E ci sono E però questa roba Deve essere finita Ci sono Io l'altra volta Non so se ero con voi No ero con Lucia In un altro podcast Dicevo Ci vorrebbe un contratto Perché se una donna Molla tutto Si dedica all'uomo Ah no c'eri tu forse Se una donna Si dedica a un uomo E dedica la sua vita Per fare la traditional wife Eccetera eccetera Molla tutto E ragazzi Deve avere delle garanzie Cioè ma deve avere Delle garanzie vere Perché se tu stai Sei così con un uomo E lo aiuti A costruire un impero Quell'impero è anche tuo Non che è dell'uomo E poi lui Quando tu hai 50 anni Se ne va con una di 20 Perché io ti impalo Mamma mia Assolutamente sì Appunto E proprio questo è il discorso Ma in teoria il matrimonio Dovrebbe essere questo Però voi E poi tiro fuori Un altro argomento Voi Voi Siete totalmente Folli Non voi tre Voi generale donne Sì generale Perché avete Un'ossessione Per questa cazzata Per questo motivo di merda Perché ci sono dei uomini di merda Avete L'ossessione Dell'indipendenza Economica E dell'ansia Ti faccio un esempio Avete un'ossessione Folle E rovinate Non aspetta Ti dico una cosa Mi viene da piangere No no è così Ne abbiamo parlato Avete un'ossessione Folle Per l'indipendenza Largamente Cerchi una relazione Ma non è che Ragazzi È pieno di sta gente È una piaga sociale Ma le femministe Ma aspetta Lo so Arrivo Scusa Ti faccio parlare Perché ci tengo particolarmente Arrivano a 50 E dicono Eh cerco l'uomo E sai cosa trovi Trovi dei ragazzini Di 35 anni Di 30 anni Che stanno con te Perché sei ancora una gran figa Ma ci stanno con te Per qualche anno Danno il loro regale a Ugello E poi dopo che hanno usato Le libagioni Che offre ogni giorno Ti dicono Chica ma sai cosa Cioè io ti non abbiamo futuro E ti mandano a cagare Le vedi Tutte le Guarda quelle del jet set Tutte 50 anni Che stanno col 30enne 50 anni che stanno con 35 E cosa Non sarà mai il mio caso No no Ma io ovviamente Non sto parlando Perché non riesco a uscire Con i ragazzi giovani Come è giusto Solo per quello Io non riesco a uscire Con i ragazzi Il discorso qual è ragazze È che questa roba È una piega sociale Perché oggi Le donne Se tu vedi Fino ai 40 Non pensano Lontanamente A costruirsi Una vita E quando tu trovi L'uomo giusto E parli con la donna E gli dici E quest'uomo gli dice Voglio provvedere a te Donna Io Cavaliere Senza macchia E senza paura Affronterò Qualsiasi sfida Ti dedicherò La mia vita E il mio sangue Morirò per te E la donna Non ci crede la donna Non ci crede Per la mia spada Esatto Gli vuole dare la spada E la donna Non ci crede Dice Ah tu sei un altro Di quegli stronzi Che mi hanno usata E io devo essere Indipendente economicamente Quindi ti fotti Io rinuncio Non rinuncio Alla mia vita Per te Bastardo E poi ti ritrovi A 50 anni Stronza Che esci con i 35 anni Con il girello E no no Ora esagero Per ridere E ragazzi Il problema cos'è E che cosa succede poi Quando hai 50 anni Non sei più Nel mercato Perché non puoi più Avere figli Non puoi più Costruirti E questo non vuol dire Che una donna Debba per forza Fare famiglia Fare figli Avere la vita tradizionale Però se una Pensa a questa roba Ok mi infervoro Perché su questo argomento Se una pensa a questa roba E dice Io vorrei avere una famiglia tradizionale Costruire qualcosa Ragazze Usate il vostro Ma questo non lo dico a voi Lo dico a loro Usate il vostro tempo Per trovare un uomo di valore Testatelo Valutatelo Fategli capire Che state con lui Ma volete delle garanzie serie Anche dei cazzo di contratti Perché un uomo di valore Non ha un problema Ti dice Ti do tutta la metà Di quello che ho Se ti tradisco O se ti lascio Per una ventenne E te lo meriti Sei un uomo di merda E allora devi pagare Però Il problema è che State buttando La vostra giovinezza In cui potete scegliere Davvero chiunque Perché avete l'opportunità Di scegliere il mondo Per inseguire dei soldi Che non vi Non vi cambieranno la vita A meno che non diventiate Delle only fans Da 100k al mese E State Barattando La vostra Giovinezza Per dei soldi Per una vita Da Da anziane Cercate di capire il senso In solitudine E questa roba Ragazzi È una stronzata Ma ve lo dico Da uno che crede Nell'amore Crede nella famiglia Io Ho avuto tantissime relazioni Con donne così E ho sempre Visto La concentrazione Sul business Sulla carriera Sulle minchiate E Poi cosa succede Quando capiscono Quando Quando arrivano a capire Minchia Ho sbagliato a fare così Perché ho trovato dei coglioni E ora Avrei voglia di aver costruito con te È sempre così Però vedi Perché una diventa così Perché Ci sono dei coglioni Che se ne approfittano Tipo Io Ho Diciamo Ho lasciato Quello che stavo facendo Per stare con una persona E Dopo anni Casa è presa insieme Io andavo a lavorare per lui Quindi Il mio guadagno era Lavorando Nella sua azienda Diciamo Una volta lasciati La casa È rimasta lui Io Non avevo un lavoro Eh ma il problema è Con un figlio A carico Il problema è tuo E quindi Il problema è tuo Quindi la prossima volta Col cavolo che ti dico No Io devo essere indipendente No Perché se tu hai Allora Ma come fai a dire Un uomo Che allora Ti dai una garanzia No 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 Te lo dico Perché ragazzi Non si parla di Non è un gioco questo Un uomo Non è un gioco Perché poi tu ti ritrovi In mezzo a un ponte veramente No Io ti dico Se tu mi tradisci Se finisce la relazione Ragazzi Bisogna trovare Se ti appoggi Lui si sposta Cadi Esatto Ora Non è così Questo discorso L'abbiamo fatto tante volte Sì Perché è un discorso Molto delicato Però È complicato No però ragazzi Il problema è che Cioè Il problema è che Non è che avete sbagliato strategia Avete sbagliato uomini Eh lo so Capito È quello il problema A me ti devo dire la verità Io con lui Questo problema L'ho avuto il contrario Perché era lui Che mi dava Un sacco di garanzie Cioè E io ero Così Perché lui È lui Ma lui Ma fuori Non sono mica così Assolutamente Ma non è vero Ci sono un sacco di uomini così Io sono fantastico Ma dove sono Tutti quelli che escono dai corsi Brava Brava No però è vero Tutte Io attiro persone Che la pensano come me Cioè tu non troverai mai Un gentle mind Perché noi ragazzi Io scherzo Ma abbiamo davvero una setta Cioè noi Non abbiamo Non vendiamo Buona eh Non abbiamo dei corsi Che vendiamo così a chiunque Noi non aiutiamo a tradire Non aiutiamo a rovinare copie Cioè quando la gente Io Lo vedete sul mio instagram Come posso Io sono sposato Ma mi piace una Cosa posso fare Smettere di essere un uomo di merda Gli scrivo Sì sì Ma davanti a tutti Cioè lo sapete Sì sì Smettere di essere un uomo di merda E glielo dico chiaramente Perché noi abbiamo dei valori Ma là fuori c'è pieno di uomini così ragazze E io credo fermamente Che oggi Le donne Per questa indipendenza Per questa emancipazione Per questa cosa Abbiano perso Veramente la bussola E non è che dico Che ora tutte le donne Devono fare le casalinghe disperate Io per paura Sì ma Ieri Cioè ieri Nell'altro podcast Io uguale Nell'altro podcast Dicevo Dicevo Senti questa attica È bellissima Dicevo questo Il problema Sapete qual è È che Le donne a vent'anni Partono E questa è una verità E vorrei sapere la vostra Le donne a vent'anni Partono Che credono ancora nell'amore Credono ancora nella bellezza Delle cose Credono ancora nel cavallo bianco Il cavaliere Tutto quanto Sì Poi trovano degli imbecilli Perché gli uomini a vent'anni Sono degli imbecilli Che non sanno come comportarsi E allora cosa succede Trovano un imbecile Per il quale Si dedicano Cento per cento È delicato Stanno insieme Dieci anni Cinque anni Quanto cazzo stanno Questo Le distrugge Perché è ignorante Il sogno Distrugge il sogno E questa A un certo punto Si ricostruisce Dice Minchia che pezzi di merda Che sono gli uomini È normale È così E quindi cosa fai Nelle relazioni successive Mai più Mai più questa cosa Quindi L'obiettivo qual è L'indipendenza economica Ma ragazzi Ridete perché è così Perché L'obiettivo qual è L'obiettivo qual è L'indipendenza economica L'obiettivo qual è Non essere più succube di un uomo Non fare la serva a un uomo Non lavare i calzini a un uomo Che Sono tutte cose Che se fai per un uomo di merda È normale che ti girano le palle Però E cosa è affidare Però il problema qual è È che poi Con questa corazza Questa forza Questo rifiuto Verso gli uomini Attirate uomini Non voi In generale Attirate uomini Deboli Che sono interessati solo A farsi dominare E perché Un uomo E a noi non ci piace Un uomo forte Un uomo forte Che tu che sia così forte Sami Cioè Dà fastidio Dà fastidio Perché io Lei mi conosce La mia visione E lei è uguale Ha fatto con me Cioè Io sono Io sono bravissimo Però sono testa di minchia Perché sono dominante Se tu mi rispondi Se tu mi dici Se tu mi fai Se tu fai l'indipendente Io ti mando a fare in culo Cioè cerca di capire Sì Discussioni Discussioni Perché non voglio Perché non voglio Essere trattato Cioè pagare I debiti Di altri Perché voi Fate Voi donne Fate pagare I debiti Di altri A uomini Che non ne possono Un cazzo No perché lì Comprometti la tua vita Devi capire E quindi è normale Che Sì ma io ti faccio Una domanda Ora Ora va bene Ora sei figa C'hai 30 anni Sei super nel top Ma io ti chiedo Se tu Tu metti Che io ti auguro Di sfondare Di andare in televisione Di fare Tutto quello Perché ti voglio bene Perché sei una persona Fantastica Ma se tu Ha 40 45 anni Quando tutta sta roba Un po' Cadrà No Cioè No vabbè No però Non vuol dire No però No capito Prima o poi Sta roba Ma anch'io ragazzi Io vedo Quando avevo 20 anni Facevo due giorni di palestra Infatti Ora devo Devo uccidervi Spero che arrivi Uno Che mi faccia vedere Che mi prende E mi porta Se uno mi prende Mi porta via Mi vuole Sì però Ti voglio fare una domanda E io Cambierò Però il problema È che se continui così Ma non è il tuo lavoro È questo focus Sulla indipendenza Che non è che ti dico Diventa una Cioè mettiti il grembiulino E vai a fare la colf per uno No no È il mindset E lo dico a tutte A tutte Il mindset È quello ragazze Cioè se voi Continuate ad avere Questa indipendenza Che non vuol dire Dovete fare le schiave Per un cretino Ma trovare un uomo di valore Con cui costruire E costruire qualcosa Insieme E finché Penserete a voi stesse Succederà questo Che cosa che mi è successa A me in tutte le relazioni Dopo il matrimonio Io pensavo a lei E lei pensava a se stessa E non è che Erano cattive È che dovevano costruirsi È che dovevano Creare l'indipendenza Perché diciamo Minchia Mauri Ma tu puoi fare Puoi tenermi Puoi mantenermi Puoi fare Ma io non voglio No perché è brutto No è brutto Non è brutto È la natura delle cose No è brutto Perché se mi devo fare una cosa Che mi fa piacere Che ne so Devo spendermi 700 euro Di extension Vengo da te E ti dico Amore Sai voglio che Mi dai 750 È proprio così È proprio così Perché un uomo Fai soldi Perché se un uomo Tu gli chiedi 700 euro Per l'extension E poi c'è questi capelli lunghi Che fanno tutti così Lui si gasa Perché si sente importante Ora Non tutti possono Permettersi un livello Però Cioè Ognuno ha il suo livello Però aspetta Il discorso qual è? È che Un uomo Quando tu gli chiedi Queste cose Si sente importante Lei me l'ha insegnata una cosa Che diceva delle russe Che sono le più furbe Eh sì Perché Doro Fanno le bamboline E vanno Da questi uomini Facoltose Si fanno Ora Non è Non è eticamente il top Però tendenzialmente Trovano uomini In base Alla Scala Diciamo Economica Che possono permettersi Vanno da questi uomini E si fanno trattare Da regine E l'uomo Non gliene frega niente Che ti debba Mantenere Anche se sei un operaio E hai la donna Cioè Non è che Sto parlando solo di ricchi Un uomo che fa l'operaio E guadagna 1200 euro al mese Non ti ne frega Ora vabbè è un po' troppo Però 1200 Non ce la fai a tenere una famiglia Però Anche un uomo Tra virgolette Umile Non gli interessa Di quanti soldi Faccia quella donna A lui interessa Quanta pace E quanta serenità Nella sua vita Quest'uomo Possa portare Questa donna Possa portargli Ed è l'unica cosa Che conta Noi Della carriera che fate Del vostro titolo di studio Delle vostre successi Della vostra notorietà Non ce ne frega Una beata Minchia Da noi Quello che interessa È come ci sentiamo Quando noi Torniamo a casa Perché noi Io parlo di uomini Che magari hanno ambizione Che spingono Ma anche un uomo Un uomo umile Non è importante Ogni uomo Ha le sue sfide Durante la giornata Lui quando Cioè Quando torna a casa Lui vuole trovare Una donna Che lo ami Che gli voglia bene E che possa Lui trattare da regina Un uomo di valore Ovviamente Poi ci sono dei coglioni Che arrivano a casa Le picchiano Però quelli non sono uomini Però un uomo di valore Vuole Non vuole Che tu gli paghi La cena a metà Vuole che quando Lui ti paga la cena Tu Amore come ti amo Sei bellissimo Sei fantastico Non ho mai avuto Un uomo come te Che Quando sei in casa Invece di uscire Con la Con la Con la calza di flanella E il tuttone Te ne vai col vestitino Con le zinze di fuori È normale Così si sta a casa Esatto E questo scrolla Capito È questo che vi dico Ragazzi Perché non avete capito Una beata minchia Se volete capirne di più Guardate i nostri podcast E ricordatevi di iscrivervi E di commentare Facendoci sapere Che cosa ne pensate Ciao Ciao Ciao